Sì, il Consiglio Comunale è riunito per il bilancio, si è trovata una combinazione che era già stato convocato subito dopo il sisma. Al primo punto, tra le comunicazioni del Sindaco, ho portato la mia e la nostra solidarietà alle popolazioni dell'Abruzzo per il grave sisma che hanno avuto. Ricordando che anche Aieta ha avuto un terremoto e quindi, come dire, la solidarietà che è stata avuta in passato è sembrato opportuno esprimerla. A questo punto si è aperto un piccolo dibattito fra i consiglieri e maggioranza e minoranza, questa è una cosa molto bella che voglio che ho apprezzato moltissimo, hanno proposto perché non facciamo una raccolta fondi. Subito, come dire, in qualche modo si è messo mano al portafogli per concretizzare questa raccolta fondi, al che il capogruppo Carmelo De Leo per la maggioranza e Pasquale Cosindino per la minoranza sono andati oltre. Hanno detto, promuoviamo proprio una vera e propria raccolta per tutto il paese di Aieta, facciamo un paio di punti, un punto di raccolta, saremo presenti al punto di raccolta maggioranza e minoranza, proprio a significare che sulla solidarietà non si ci deve mai dividere e quindi insieme maggioranza e minoranza di Aieta raccoglieranno i fondi, i soldini da dare come contributo alla protezione civile nazionale. Naturalmente dopo i consiglieri comunali sono stati invitati anche i dipendenti del Comune di Aieta a partecipare, così come la popolazione. Quindi sabato e domenica prossima, 18 e 19, presso il centro anziani del Comune di Aieta, i due consiglieri di maggioranza e minoranza raccoglieranno, saranno presenti per accettare le offerte e quindi successivamente faremo un conto corrente postale e pubblicheremo tra l'altro anche la ricevuta del bollettino, proprio nella massima trasparenza per dare come consiglio comunale di Aieta e popolazione di Aieta un segnale di solidarietà alle popolazioni dell'Abruzzo. Poi è stato approvato anche il bilancio? Sì, altro punto all'ordine del giorno era il bilancio e le aliquoteici. Le aliquoteici sono passate anche perché abbiamo delle tariffe aliquoteici bassissime a 4 per 1000, quindi quando non si parla di mettere tasse c'è ampio consenso. Sul bilancio, naturalmente l'opposizione ha votato contro, è stato votato da tutta la maggioranza e quindi anche il bilancio del Comune di Aieta è stato approvato. C'erano altri due mesi di tempo per approvare il bilancio, potevamo aspettare a fine maggio ma atteso degli uffici l'avevano già predisposto e il bilancio segue le ormi di sempre, segue la scelta di fondo sociale, che è socialista, dico io, che è stata data al bilancio, cioè dare la possibilità a chi è disoccupato di lavorare, di avere degli introiti e continuare con le opere pubbliche che sono state avviate e quindi continuare col programma delle opere pubbliche. In questo modo ho avuto modo di annunciare i due rossi finanziamenti che il Comune ha avuto. Dopo quelli dell'anno scorso per l'acquedotto comunale, per il depuratore, per la rete idrica, quest'anno sono arrivati altri due rossi finanziamenti, uno di 600 mila euro per l'assistemazione del centro storico attorno al palazzo e un altro di 300 mila euro per il dissesto idrogeologico. Quindi sommando questi lavori arriviamo a circa un milione e mezzo di lavori che per una realtà di 800 abitanti come quella di Aieta sono numeri di tutto rispetto.